E si narra che il giorno in cui la spada Nuadu fosse tornata a difendere il mondo degli uomini, essa si sarebbe unita soltanto al futuro re dei Celti. Devo darti una mano a scalzare il nostro re dal trono? No. Dobbiamo salvare il re dalle grinfie del suo druido, Avertol. Il re ora paneggia. Avertol detiene il vero comando delle nostre forze e ci ha mandati al massacro. Raduniamo migliaio di guerrieri e scateniamo gli ricontro. Dobbiamo chiedere aiuto al ragazzo con il marchio. Quel ragazzo ha dei poteri soprannaturali. E so che è l'unico in cutere timore al druido. Ascolta, guerriero. Purtroppo è arrivata l'ora buia. Avevi ragione. È per questo che la spada ti ha parlato. E ti ha condotto fino a me. Dopodiché, sopprimilo. Ha una forza straordinaria! No! No!